Vedi? Ma noi siamo stati posti, bello! E' fatto tu! E' fatto tu! E' fatto tu! E' fatto tu! Andiamo avendo noi, benvenuti! Ce l'ha fatto il Presidente a fare un segno! No, ce l'ha fatto! Ce l'ha fatto! L'Avia è in un bello sistema! L'Avia è in un bello sistema, eh? E' in questo interesse. Nooo! Ma io sono giudato la malattia! Ma ci sono due per un bel metro, qualche minuto! Se le faccio, ci vai dicendo... Sono bacchissime! Oh! Oh! Guarda mai! E' un giudito proprio un bucino, eh! Quella ne ha più affinata! La passata! E' un po' la! E' un po' la che bezzata! E' un po' la mia posizione per il libro! Ma che sembra bezzata? E' un po' la bezzata! 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 e poi ne va a parte di un pubblico questa sera c'è il video ha detto il corso che è pure il primo e abbiamo vinto la biglietta la cosa e poi ci vediamo 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 La nausea è una cosa di rilevare Porciò è una zona che non è entrato E' un po' di paese con il video E' un po' di rilevare E' un po' di rilevare Ma non esiste il momento Zietà di rilevare Sempre è impossibile Che sei quanto volate Puoi essere tramata che che non ho comune Ma potrei andare a me Potrei andare a me Ma non esiste Ma non è adotante Come lavorate Perché era un minuto Ma non è Che bowsiche Tant taglia lui Questa metà un mese Tanto la mia Tant taglia lui C'è un po' tipo di figuri la mia che insegnava in giù vabbè, faccio vedere la mia ma di me vabbè 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 mon sembr vabbè e